Oggi pomeriggio mi incontrerò con Piantedosi, infatti devo scappare a Roma, proprio perché gli devo chiedere... Poi io non sapevo nemmeno quando ho preso l'appuntamento, mica sapevo che sarebbe successo il casino che è successo in Napoli-Mila. Guarda caso, io avevo preso dieci giorni fa l'appuntamento con Piantedosi e mi interviedi Matteo, qua se non risolviamo il suo problema, caccio, gli possiamo dire addio.